Oh, uno si fa il culo per trovare la carpa magica, per trovare il primo maledetto Mew e poi ne trova 77 nell'arco di tre puntate poi gli autori della Pixelmon non mi prendono per il culo io quasi quasi questo l'ammazzo, sai com'è ne ho già un altro, in questo episodio comunque lo cloniamo se riusciamo e per chi non l'avesse capito, salve ragazzi, sono Axo24 questo è un nuovo episodio della Pixelmon, Pokecraft come si chiama, come la volete chiamare voi come avrete notato da questa settimana, si sente, che cazzo si sente che mi è tornata la voglia di fare video, non sono più, tra virgolette, ragnosi come erano prima ma perché non c'evo voglia, si è sentito ho continuato a farli solamente perché sapete che se uno youtuber smette di fare video per un tot di tempo poi non se lo caga più nessuno e siccome non volevo fare questa fine ho continuato a fare video sbattendomene della voglia tranquilli, ora sto di nuovo a posto anche col problema voglia e quindi oggi abbiamo dei piani importanti ah che cazzo questo lag, oggi abbiamo dei piani veramente importanti perché avete visto che le preghiere per la carpa magica hanno funzionato io sto tornando a casa, così la possiamo chiamare perché ancora non abbiamo una casa e tornando a casa ho intenzione di mollare un po' di Pokémon nel box sto scherzando, solo Sisor, voglio mollare nel box che cazzo ho passato una luce vicino a casa mia voglio mollare Sisor nel box e portarmi dietro la carpa magica per proseguire, viste le vostre preghiere assieme al dio carpa magica abbiamo raggiunto tipo 350 commenti hashtag prega la carpa magica oggi invece dobbiamo invocare Lord Pisello Verde altresì Raiquaza quindi io direi di andare nel centro Pokémon di casa curare il tutto, fare i preparativi e partire alla ricerca di Lord Pisello Verde se lo troviamo sono il figo più figo di sempre la Master Ball ce l'ho quindi allora molliamo Sisor qui dentro qui la carpa magica ovviamente ce la si porta dietro grande, 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 grandissimo io ti venero dio carpa magica con la tua sei così sfavillante è infiammato, è così magica carpa magica, non lo so io non lo so, che gli si può dire? non gli si può dire niente lui è dio, noi dobbiamo solo obbedire prega la carpa magica hai il carpa magica ora ora ora, molliamo tutto ciò che non serve qui dentro oh qui dentro, che cazzo oh qui dentro ci portiamo dietro solo quello che realmente mi serve ovvero la Master Ball per Lord Pisello Verde e magari per battere qualche boss qualcosina qual è il mio piano per far esponare Lord Pisello Verde? mi muovo su una pianura tranquillamente, molto easy easy e faccio avanti e indietro sulle nuvole così è quello come avete scritto voi altra cosa che potrei provare a fare oggi in caso non riuscissi a catturare il Pisellone Verde è catturare un altro Magikarp questa volta non shiny una carpa magica non magica e farlo diventare Geridos Zombie visto che ho provato e con Magikarp carpa magica non funge quindi proseguiamo con la ricerca di Rayquaza io volo un po' in aria e noi ci rivediamo in caso dovesse sponare Lord Pisello Verde belli rega sapete no che non mi piace di norma bestemmiare nei video e infatti non lo fo però a uno per quanto possa essere super religioso per qualsiasi dio lui voglia quando si trova davanti questo anche il più cristiano dei cristiani bestemmierebbe e che cazzo la maledizione di Mew e persiste la maledizione di Mew ma quale maledizione di Mew la maledizione che mi farà trovare sempre e solo Mew per sempre io non posso trovare più nessun altro è finita il giorno in cui ho trovato il mio primo Mew mi sono distrutto con le mie mani Stone Age ah bene gli ho tolto molto eh io non non riesco a crederci che sto davvero trovando così tanti Mew non è scientificamente possibile dai su via e intanto batto anche quest'altro Mew che cazzo ora voglio Lord Pisello Verde io vorrei tanto dirvi che la vita non fa schifo ma è così è così raga quanti Mew ho trovato Mew 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 Puma e dai non è possibile ah dai dio mio ancora un altro facciamo così questa uccisione di Mew voglio dedicarla al mio fan numero uno non lo so voglio salutare Jacopo il fratello di un anonimo che mi scrisse su Ask qualche giorno fa è simpatico non lo so mi ha detto che ha scoperto il mio canale grazie appunto a Jacopo che è suo fratello e quindi boh non lo so adesso non mettetevi a scrivere nei commenti Axo salutami saluto solo lui perché mi sta simpatico ciao a tutti e battiamo anche questo ah no è lui che ha battuto me quindi ciao Jacopo e ciao anche il fratello è chiaro ciao anche a Sook ok perlomeno ho battuto anche questo Mew ora forse la zona di casa non è il posto adatto ora io me ne vado proprio isolato dove sono sicuro che non ci sia una maledettissima pianura eh scusatemi giungla perché se c'è una giungla sappiamo tutti chi spona e non dico vabbè posso sponare anche gli altri no solo lui oh mio dio vi prego basta non è che dite vabbè è passato un po' no sono passati 30 secondi dall'ultimo non è che Rayquaza almeno l'ho scritto giusto Rayquaza Rayquaza sì e non è lui cioè sta a vedere che è davvero e dico davvero un altro Mew basta 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 eccolo un altro ancora che cos'è la giornata nazionale ma io non ho neanche aumentato la possibilità di spawn di Mew non ve la faccio neanche vedere questa lotta basta non lo sfido neanche muori ti sfido ti mando contro la carpa magica super carpa magica usa splash carpa magica sì e andiamo fanculo hai ucciso la carpa magica hai ucciso la carpa magica non ho sentito bene chi hai ucciso sporco Mew hai ucciso la carpa magica bene chi uccide la carpa magica soccombe fanculo e perché lui sta ancora recuperando PS questa vita fa schifo tutto normale sì vai Arcanine pensaci tu per favore e e e e che cazzo e e ciao e dimmi che attacco rapido dimmi che attacco rapido oh sì ah 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 eh e adesso eh Mew e adesso che facciamo come la mettiamo ora eh Pidgeot ha anche imparato attacco d'ala eh come la mettiamo fuori la carpa la carpa magica non può lottare beh allontaniamoci da questo posto maledetto mi sono spostato in una zona che sembrerebbe adatta allo spawn di Rayquaza ed è anche una zona bellina obiettivamente allora prima di tutto nota importante la carpa magica è ora di nuovo in grado di eh portare fortuna dato che è viva se vedrete del lag è perché sto volando in cielo e deve mh deve controllare la mia ascensione al regno dei cieli oh mio dio uno shiny non de spawnare non de spawnare se no non de spawnare se no mi incazzo non de spawnare se no mi incazzo non de spawnare se no mi incazzo sta a vedere che ho trovato Growlite shiny oh mio dio oh mio dio eh dove sei? dove sei bello? dove sei? 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 e che e ora muori dai mannaggia te perché laggi gioco schifoso io lo odio minecraft sono felice che ultimate pack sia finita questo gioco inizia a starmi veramente antipatico ti prenderò prima o poi sai? su via si l'ho preso l'ho preso no l'ho preso l'ho preso vabbè io ti tiro le pokeball allora oh grazie mi ha sfilato lui borsa pokeball tanto ti prendo è inutile mmm e catturato grow light shiny la vita mi vuole davvero bene talvolta è molto piccolino sì però ehi è grow light shiny eh sì però devi stare qui tu grande beh che dire wow avremo arcanine shiny e arcanine è il mio pokemon preferito e nonostante lui sia già al 40 e non sia affatto male è un grande anche lui però oh l'ho trovato shiny sta a vedere proseguiamo con la ricerca di rai quaza altresì il lord pisello verde se trovassi rai quaza shiny farei tipo il colpaccio del secolo ma sono io non lo troverò mai lì qui si va per l'extreme ilsk un altro bel posticino va ci rivediamo ed è ufficiale per oggi abbiamo fallito mi sono veramente stancato ho cercato per una mezz'oretta non ho trovato niente vabbè a parte growlight shiny e 77 miu però questo è quanto quindi ho intenzione di intraprendere i lavori per un'altra cosa alquanto importante che ovviamente non è la casa ci avete sperato ma no proviamo a iniziare i lavori per la cloning machine ovvero ciò che ci servirà per clonare miu e farlo diventare miu to intanto l'aggiungiamo alla nostra lista di shiny molto bellini tutti ci facciamo una festicciola fra shiny fra un po' allora premendo G andiamo a vedere come si crafta la cloning machine ci serve un green tank che si fa con la macchina per fossili cazzo gli smeraldi ce li ho? eh eh se non ho gli smeraldi sto un po' mi servono quindi 6 di ossidiana minimo vabbè la base è relativamente facile il tank pure e il top anche ok la fossil machine non è un problema ne posso fare eh dove sta il problema fare il green tank l'orange tank no l'orange tank no oro 6 di ossidiana quindi mi serve un bel po' d'alluminio e la cloner cord è no che 12 di ossidiana dura è un po' dura sinceramente no no la vita fa sì io l'avevo trovato qualche villaggio waypoint villaggio sì sì 2000 ah che palle beh devo farlo e se incontro un lago di lava mi fermo anche a prendere l'ossidiana quindi prendiamo i miei diamanti e proseguiamo con la creazione di un piccone di diamante avvincente questa avventura sarà molto avvincente andiamo a fare la cloning machine per poter poi appunto ottenere Mewtwo ecco qui piccone di diamante e ci siamo mi porto sempre dietro la master ball si sa mai che dovesse spawnare qualcuno eh non ci credo manco per scherzo ma se spawna io ci sono e che cazzo tre assieme vi rendete conto tre perché uno non era abbastanza fare spawnare un solo Mew era troppo mainstream allora ne spawnano tre vi pare normale no perché a me no sinceramente proviamo a entrare in questo tempio intanto il lag del volo è devastante chi se ne fotte senti ti vuoi ritirare sto PG8 oh basta io non ce la faccio non li voglio più sti Mew che palle quanti ne ho trovati siamo a dieci forse sul serio scusatemi mi sono entrati in camera qui ci sono anche già stato mannaggia alla maledizione di Mew io direi di dormire qui dentro guarda tre di fila ma io non lo so avete toccato qualcosa voi per caso per fare spawnare più Mew siete stati voi è colpa della carpa magica io non lo so c'è qualche oscenobug che fa spawnare 73 Mew alla volta gli altri leggendari non esistono manco per scherzo ma Mew 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 ne spawnano aspetta c'è uno che ne spawnano altri ora sicuro che poi io non capisco ma che gli ho fatto io all'altro i leggendari per non spawnare comunque non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a prendere oramai il nostro bello smeraldo sempre che ce l'abbiano basta per favore sul serio io non vado neanche a vedere sul serio basta sono passati 30 secondi per favore e fino alla fine ce l'ho fatta sono arrivato al villaggio spero ci siano i villager se no eh scusa oh bene eccoli qui vediamo se trovo qualcuno che mi scambia del grano per uno smeraldo è questa la mia missione eh tu no decisamente tu eh beh peccato che io non abbia lana tu sei un infame tu non ne parliamo eh magari iniziamo a raccogliere il grano allora visto che me ne serviranno più o meno 17 credo per uno smeraldo sta a vedere che non ci arrivo sarebbe tragico allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' no beh dai forse ci arrivo quanto sto? 20 perfetto tu sei un infame oddio c'è Flygon ciao Flygon tu t'ho già visto tu no voi due immagino proprio di no visto che avete il vestito diverso oh eccolo qui il mio compare beh io ti andiamo d'accordo ciao bello beh questo era proprio conveniente sei così conveniente beh io sono un truffaldino io ti ammazzo muori villagero ti prende a martellate di diamante muori cane oh yes perché l'ho ucciso oppure allora mi verranno i sensi di colpa spero di avere con me del ferro eeeh non ho del ferro yeeeh voi direte perché? perché se avesse avuto del ferro avrei potuto prendere un secchio d'acqua e con un secchio d'acqua facevo l'ossidiana ma io sono stupido e me la sono dimenticata che cazzo e mo? come fo? no no sul serio non sto mica scherzando e ora? si oh si anzi in realtà no che me ne faccio se po? permesso eh ma che vado a uccidermi fanculo foglie e dai io io ci spero davvero cioè spero che ci sia una pozza di ferro cioè vicino alla lava magari una piccola miniera con del ferro eh no eh cioè no chiedo troppo no decisamente no vabbè io lo segno qui lo segno come lava e chi si è visto si è visto cerchiamo qualche pokemon interessante e catturiamolo gada catch e mall proprio cioè di un livello superiore la carpa magica beh dai cerchiamo la carpa non magica qualcuno di voi mi ha scritto di catturare merip visto che c'è Ampharos e più avanti lo farò perché hanno aggiunto Ampharos appunto finalmente tra parentesi quindi io direi di settare sul poker radar carpa magica di facciamo così hashtag preg la carpa magica bah annaggia magica preg la carpa non ci sta eh carpa magica bene in pratica voi direte si il pokemon si chiama magica quindi non me lo segnerà il pallino se spona un magica però è propiziatorio vedrete che ora sponerà un magica shiny tra l'altro adesso sta a vedere eh eh chi è quello eh chi sono quelle eh carpe magiche a me sembra proprio di sì catturo quello di livello più alto spero di beccarne uno di livello 18 19 poi lo vo a buttare nella lava lo tiro fuori e lo faccio diventare Geridos zombie eh non credo di chiedere troppo se chiedo un magica una carpa magica di livello tipo 18 19 buh è uguale basta che non sia di livello 10 così lo catturo attenzione la carpa magica boss avevo nascosto il menu per sbaglio lo battiamo in onore della vera carpa magica ma sì dai stone edge proprio in faccia alla carpa magica anche se è uno scontro ingiusto lui può usare splash io no potrei mandare la mia carpa magica ma mi ucciderebbe e mi droppo una ultra ball una pietra lunare le carpe magiche sono sempre generose eccola lì una bella carpetta ehi sexy carpa 10 fa un culo sexy carpa non più mettiamo via questa perché ho tirato un nido king mettiamo via questa mt ho avvistato un'altra carpa è pieno di carpe magiche 17 benissimo un livello più che soddisfacente tu sei mio 1 e 2 e 3 prega la carpa magica prega la carpa magica prega la carpa magica prega la carpa magica sempre e per sempre forever and ever prega la carpa magica e chi prego? la carpa magica Corp Slowpoke Bello Lo slowpoke rampante Io non lo finisco St'episodio se non ho Geridos zombie Sappiatelo E andiamo a fare Sto gay Geridos zombie Che cazzo Basta 19 metri Al momento di gloria In pratica dobbiamo buttare Magikarp Into the lava Bene ora puoi tornare da me E poi credo andare a buttarlo in acqua Se ho capito bene Sì perfetto Guardatelo quanto è sexy ora L'ho abbrustolito per bene Abbiamo fatto una bella carpa magica Arrosto Ora non resta solamente che Trovare un pokemon Piuttosto forte Magari qui nel deserto Dove abbondano i pokemon forti Che so io Settiamo Flygon What about Flygon Mannaggia Artoro Ok Flygon Vediamo Se spawna Flygon Sfidiamo lui Lo battiamo Mettendo la carpa Oh c'è un graveller sul tetto Come c'è arrivata Quella palla di fango Là sopra Suppongo tu ci sia spawnato Carpa magica È un lavoro per te Carpa magica Devi beccarlo Oh sì La carpa magica Non sbaglia mai Direi di mandare Il nostro sexy Feraligator E di utilizzare Un bel Ice Fang E lo fa fuori In un colpo Vero Che hai fatto Hai fallito Boh Non l'ha fatto fuori In un colpo Vai con pistola Acqua Bene Magica Sarà lì Il 18 Scherzi Devi fare ancora Qualche livelluccio Carpetta Carpetta mia Dormiamo In onore della carpa Anzi Prima battiamo Quest'altro graveller Sbam Ma Che carpa Oh sì Questa volta L'ho sfidato Mandiamo di nuovo No Questa volta Mandiamo Nido King Che è più sexy Ok Lui usa caduta massi Io fo Earth Power E lo secco In un colpo Magica Sarà lì Il 19 20 Oh sì Ehi Perché tu non sei più bruciato Se ora mi si evolvi In un Geridos normale Chiudo l'episodio E interrompo la serie Cioè sì Si evolverà in un Geridos normale La vita fa schifo Uffa E vabbè Non fa niente Lo facciamo nel prossimo episodio Geridos zombie Mi dispiace Fanculo Io non lo volevo Questo Geridos Questo Geridos fa schifo Ah no Che è Geridos zombie Sì Sei un figo Eh aspetta Dormiamo E poi lo contempliamo Per bene Ora io non lo so Se l'avete visto A parte gli esperti Della Pixelmon Che sanno tutto E mi insegnano a me Come si gioca In pratica Per gli altri Questo lo dedico Agli altri Andiamo in un bel fiume Di E poi possiamo Chiudere anche l'episodio Però dovete contemplare Ciò che succede Quando preghi la carpa magica Mannaggia Lug Io lo odio Minecraft È un gioco Che fa davvero cagare Oh sì Oh sì Oddio Una croce rovesciata Messaggio subliminale Eh? Chi è lui? È Sexy Geridos Sexy Geridos zombie Sbam Grandissimo Cioè sei Sei davvero Molto zombie Such zombie Molto Geridos Quanto sei figo Vabbè Basta Abbiamo catturato Growlite Shine Abbiamo fatto evolvere Geridos zombie Oltre ad avere trovato 19.000 Mew Direi che mi posso Ritenere soddisfatto Inoltre ho anche preso Uno smeraldo La missione procede bene Chi lo sa che Nella prossima puntata Non faremo davvero La cloning machine Ci vediamo domenica prossima Dax24 è tutto Anzi ci vediamo Con Pokémon Art Gold Il suo grande ritorno Ciao a tutti 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 Grazie.